Ciao a tutti ragazzi, io sono Magicolo e oggi vi parlerò di come lavorare su YouTube e guadagnare soldi con i video e la partnership Allora, come qualcuno di voi saprà, si può lavorare con YouTube Quindi sì, la prima cosa che voglio dire è questa, si può lavorare, c'è gente che lavora E' inutile dire di no perché è così, c'è gente che proprio fa di YouTube un lavoro Questa gente sono i programmatori di Google che lavorano in America Ovviamente no, sto scherzando, si può anche lavorare su YouTube Italia tramite video e altre cose, cioè facendo video praticamente Sì, solamente video, sì Allora, uno dice, ma non è sbagliata questa cosa, dipende da come la vedi Se uno sta tutto il giorno a fare un video, per fare un video bellissimo, allora va bene Oppure se uno fa video ogni 5 minuti cercando di fare del proprio meglio, allora va bene Però, come si fa a guadagnare su YouTube? Allora, come si fa a lavorare praticamente su YouTube? Allora, tu ti fai, entri su YouTube, ti iscrivi a YouTube E questo ho già fatto un tutorial, quindi guardate se non sapete come fare Vi iscrivete a YouTube, vi iscrivete a Google E poi fate video Non potete ovviamente guadagnare subito se non avete fatto niente Allora, fate video Se facendo un po' di video vedete che riuscite ad arrivare almeno a 100.000 visualizzazioni O massi anche 10.000, 20.000, 30.000 E fate anche, avete molti iscritti Allora potete dire, va bene, allora vi voglio guadagnare su YouTube Allora, non lavorare, è iniziante con guadagnare Guadagnare soldi con YouTube si fa tramite la partnership Cioè un contratto che fate con Google Dove i vostri video verranno monetizzati Quindi ogni volta che qualcuno guarderà questo video Vedrà la pubblicità e quindi guadagnerete dei soldi Benissimo, come si fa? Ci sono due metodi Il primo è farlo direttamente con Google AdSense Quindi dovete andare nella pagina di Google AdSense Iscrivervi e semplicemente guadagnerete i soldi con Google AdSense L'altra possibilità, se non siete così sgamati Allora dovete andare con una partnership tramite delle aziende Che offrono una sorta di partnership con YouTube Però in realtà voi fate un contratto con queste aziende Come TGN O Macchinigna O altre E tramite loro Guadagnerete una percentuale dei vostri video Dei vostri, sì, dei vostri video Ovviamente non tutto Perché circa la metà O il 25 O il 20 Andranno a questa azienda Ovviamente Se no loro cosa fanno a fare Quindi Quindi, sì È tutto qui praticamente La cosa più difficile non è questo Non è come guadagnare soldi Ma fare video Se voi fate video Di me Di cacca Allora Allora Sarebbe inutile, no? Fare tutto questo Se siete a livello zero Dovete iniziare a fare dei bei video Non dovete pensare a guadagnare soldi Perché se fate questo È inutile Io sono da YouTube Su YouTube Dal 2006 Praticamente Dall'inizio E all'inizio Non pensavo neanche che ci fosse questa possibilità Non me ne fregava niente Mi interessava solamente Condividere queste cose E fare bei video Mi hanno chiuso tre canali Con milioni di visualizzazioni Quindi non vi lamentate Mi raccomando Questo canale Magicolo46game Ce l'ho dal 2010 Mi sembra 2009 E grazie al cielo Non me l'hanno mai chiuso Quindi Quindi Per fortuna Per fortuna Per fortuna E Oltre a questo Vi volevo dire anche che Per aiutare queste persone Che magari fanno dei bei video Ma non li caga nessuno Ho aperto MagicoloNetwork Un network dove Potete iscrivervi Dove potete Seguire il canale Si chiama MagicoloNetwork Proprio così E lo trovate anche nella lista Dei miei Canali preferiti Tramite questo Canale Io caricherò dei video Che le persone mi manderanno Se vogliono sponsorizzare Il mio Il suo Il suo canale Per fare questo Dovete fare un video Di due Tre Massimo Tre minuti Anche un minuto va bene In inglese O in italiano Come volete Non in francese Vabbè anche in francese Dai E Vai In qualunque lingua vogliate Anche una lingua che mi inventate voi Che non sia anche solo di videogiochi Ma di qualunque altra cosa voi vogliate E Oltre a questo Niente Mandatemi un messaggio privato O un commento a questo video Se siete interessati Io visiterò il vostro canale Voi caricherete Mi manderete un video Dove spiegherete Cos'è il vostro canale Perché iscrivervi E E basta Tutto così Ovviamente Questo network Sarebbe meglio Se fatto per gente Che non Non ha Appena iscrita Che fa dei bei video Ovviamente Se uno Ha già tre miliardi di visualizzazioni È inutile fare questo Quindi Visitate Magicologa in network Guadagnare su youtube Si può Molti lo fanno Quindi Non so se c'è qualcosa di male Però È così C'è anche chi ruba Cosa dobbiamo fare Non sto dicendo che è rubare Fare video Però Diciamo che C'è gente che si spacca la schiena Tutto il giorno E Gente invece che fa video E guadagna Dei soldi Boh Il commento finale Lo lascia a voi Ciao a tutti Da Magicolo Ciao a tutti